Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto continua la chiusura del corso Sacco e Vanzetti tra Corso, Regina Margherita e Strada Antica di Collegno per verifiche strutturali. La GTT ci informa che sino a sabato la linea 10 è gestita con autobus sull'intero percorso, da oggi a venerdì invece la linea 7 da Via Po ed è viata in Via Academia Bertina a Corso Vittorio Emanuele II percorso normale e le linee 16 circolare destra e circolare sinistra saranno gestite con autobus. Veniamo alla giornata di domani, intanto abbiamo semafori in manutenzione con agenti in centro incrocio dalle 9.30 alle 17.30 in Corso Grosseto, angolo via Paolo della Cella e Bibiana. Domani notte la consueta chiusura dei sottopassi per operazioni di pulizia meccanizzata, 23.30, 1.30 chiuderà il sottopasso Repubblica Porta Palazzo, dalle 2.30 alle 4.30 di venerdì mattino presto chiuderà la sottopassolanza di Corso Massimo D'Azegno. Non ci sono altre notizie, buona serata, buon viaggio e ancora tantissimi auguri di buon anno. Ben ritrovati.